Musica Allora vado a facciare Fuori Vado a facciare Musica Camina Vai Parado Todo I Era Paso Come on Auf Ciao a tutti i nostri amici, ciao a tutti i nostri amici. Ciao! Welcome to our HODG channel! Helena... Paco... Paco, Paco, Helena... Paco... Ehm... Helena, Paco... Helena, Paco... Helena, Paco... Helena, Paco... Helena, Paco... Paco, Helena... HAHAHAHA! Lippon... Lippon... So, with no further delaying, let's just go and fucking continue Metro Redox 2033! HA! HA! Oπότε... Phaame! Lippon... passo... Lippon... As you look, I have a challenge with the hails. We also have Hung. Phaame! 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 Geo Robert Pagliadio, how much? Phaame, 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 Phaame! And I was doing a gerne of this game! He didn't make the game! He was dancing er? He was dancing, eh? So, let's see! Sì, non lo vedo, ma fai la tua, non lo so? Fai, fai, ok. Devono. Sì. Si. Siamo che è un esatto, ma hai fatto gli spettatori, sai. Sì. 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 Sì, non lo so? Sì. Sì, non lo so? Sì. 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 ok ecco qui ero 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 ecco che ero in ero ok ero za ero 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 E' molto difficile E'civito Fai ora E'civito 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 Mi E'civito 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 Oh shit, sleep information does play it's ricks. Ah, the game boots are... E? 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 Who's that? E? 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 No, no, no. Sì, che c'è un s**t! E' un altro team! Che ti ho guardato? Che ti ho guardato? Che ti ho guardato? a qui? non lo so a qui? si sono così non lo so a qui? a qui? Sì, sono stati più fai Sì 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 Siamo arrivati a prendere le tue? Sì Siamo arrivati a qui Ora non sono fatti a fare un tricolo Non sono fatti a fare un'altra cosa Non dovremmo avere molto ancora Perché queste sono le grandi Le tue 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 Guardate un po' Sì, non posso farlo, non posso farlo, non posso farlo. anche per la stigia fronte non lo faccio non lo faccio si è riuscita si è riuscita se riuscita non lo faccio si è riuscita ti faccio non lo faccio si è riuscita Come? 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 Chi ha? Non lo so Opa! Opa! Non hai chiesto che ci spettaccio? Poi che ci spettaccio? Poi che ci spettaccio? Poi che ci spettaccio? How do i cotto? I toto. Chia, oi la porta. Ah, po' suo! Poi che ci spettaccio? Ofi che ci spettaccio? Ma cosa è lato! E' che ci spettaccio? C'è un po' che hai spazzito qui? C'è un po' che mi ha pensato? Non ho capito, non ho capito Non ho capito! Non ho capito Non si lo so C'è un po' che ti C'è un po' che si Perciamare? Hm? Tu va? Che con il cao? Ah, sono davvero molto Ah, il tuo il tuo progetto Ah, la tua volta È vero, man? Voi da la caglata Voi, vieni qua. Vieni la caglata, vieni la caglia You che vuoi fare una caglia? Sì, vieni la caglia Sì, vieni la caglia No, la trasformazione è stata fatta. No, la trasformazione è stata fatta. Che cazzo! Opa! Ergodeci e t'acolo! Opa, un po' lì dìvolo a sò che giù dò usò. Faici un'alai. 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 Sì, vabbè, vabbè. Sì, 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 vabbè. Vabbè. PShinто di, vabbè. Vabbè... Vabbè. Vabbè, vabbè. Guarda! Ah sto giallo! Eh? Ah bo! Ah! Ah! Ok! Ok! I can't believe it I can't believe it Ah! All right Later The situation got worse Nazis literally flooded the station We'll have to act alone Sorry But if you can shut down their generator It'll be easier to stop the generator Take this Hm, that's good Ah! Don't you have the other one to take it? What? Eh? You don't even know what you want You don't have to You have to hit it Well, you have to run Bве Wut 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 A Wut 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 Ok, ok Ok, ok. Inizio qui escevai se faus che crede che. Il fatto tutto il mio solo e ha fatto un po' sinora. ora paramo non mi sia lo che è? ora 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 sto a trovare i troppi No, 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 no. Stai l'ucano? No, mi fanno il night vision Prossi e tutti gli amici So gli amici? Perché credo! Ma non lo fanno Prossi e tutti gli amici Fai bene Non c'è questo No ti fai bene Non c'è questo Matti ha fatto una porta, un'altra volta Ma ora sapevo, ma ti fai un'altra volta Ti c'pi mi attraverai? Ah, hai la fog alo? Ma ti fai un'altra volta Ma ti apoi a un'altra volta Ma ti pi ba un'altra volta Ma ti pui un'altra volta Ma ti pate un'altra volta Ma ti pui un'altra volta Non lo so, non lo so Lo so, lo so Lo so Lo Следuous Diogo Non, non, non Non, non Non, non Non, non Non c'è il genere, non, ora? Non, non c'è il calo Non c'è il calo? sembrava che c'è un caldo Oh, vieni, 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 vieni ma dann me non si pari non mi nisho? eh? non vabbè Il generatore Non lo faccio Perché? Non lo faccio 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 Doe essere ono Opa Lo sereo Siamo avuto un po' qui Lo sereo Siamo, l'escrizione Siamo, l'escrizione Siamo, l'escrizione Siamo, l'escrizione Non se lo vedi, non so se lo vedi. Non so se lo vedi. L'acqua non so se lo vedi. Hai visto che comunque ha fatto una volta? Sì, è vero! Sì! 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 non vuoi dove andare? dai sei che il vingaggio sono davvero qui ramassimo lo vuoi Oh, cazzo! Voi davanti! Oh, cazzo, cazzo! Ah, cazzo! Sì, è vero. Sì, non lo so Non lo so C'è un altro paquo che vedo Poi c'è un colone Molto Ok Sì, sì, sì. Sì, è vero che c'è un po' che c'è? Sì 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 Sei Sì 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 o cosa facciamo con il giro? il giro? o no o no ero un'avvoto giù è arrivato la canta o no Qu'è ora che ha fatto? Sì, in un momento, vanno arrivare per farlo e arrivare alla fine. Questo è quello che hai fatto. Sì, vanno avanti? Oh, non siamo? Sì. Non c'è, non c'è Sì sì! Aprodo qua! Allo messa! È tutto qua, allo messa, è giusto? Ah, sì! Allo sotto! Ah, come c'è lui? Dai, vedi a lui. Vedi a lui? 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 Oh, va t' ми vas? He? We're upnoviamo. He? Vedi a lui che deve fare. ettuè? Vedi pawbio, io vedi a lui malo No, 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 no! 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 No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no! No, 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 no senza dubai ritaglio lo pavete lascia non viena lo pavete inizio non vieno non vieno non vieno non vieno non vieno vieno non vieno non vieno la cosa che ti faccio Sì, sono luposso. Viene a casa. E' fuori? Come va a sapere? Vica con te puoi da qui? Te puoi sapere questa terra? Ah! Non c'è nessuno per essere. Ah! 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 Dev� Moore. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ah, mi sono stato molto buon Perciammo, non so farà stagione, lo perciammo Ha! Eh! Questo non c'è nessuno che non c'è nessuno. Eh, cosa c'è? Non c'è nessuno che non c'è nessuno. Non c'è nessuno che c'è nessuno. Non c'è nessuno che sesali e né che nel senno di Hell ... No. Come uno ! Come uno ! Come uno ! Come uno ! Ma questo è il solo esito. Che cosa fareai prossimo? E' difficile di descrivere i miei sentimenti in quel momento. E' difficile di descrivere i miei sentimenti in quel momento. La scuola di mia stagione ha dato un po' più forte e più bravo che io. E il mio lavoro sarebbe finito. E' facile. E' bene. Cosa? Noi! Oh, siamo nazi, vengono per la stazione O che è tu? Tu sei un peccato Petrovic qui. Non è un peccato per giochi. Chi è tu con te? È dalla fronte nord. Sto escortando lui da la stazione Black. Ok. Allora, vieni qua! Allora, vieni qua! Allora, vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! 100%! Ah, non! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Lasciaults... IM Tignano! All right, let's go. No, 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 no. Il mio Facko è Helena, grazie a tutti i nostri spettatori che hanno scritto il nostro canale perché ci sono i nostri spettatori. Buongiorno a tutti i nostri spettatori. Buongiorno a tutti i nostri spettatori. Buongiorno a tutti. Grazie.